Il suo sogno lo ha realizzato a 54 anni suonati e ora la patente la mostra con orgoglio. Senza braccia e senza mani è adesso in grado di guidare la macchina. Gianni del Mastro e di Andrea, dipendente della ASL, in passato anche assessore del comune, fu comelico da sempre, per colpa fu accertato del talidomide, un farmaco che negli anni 60, somministrato alle donne in gravidanza, provocò la nascita di tantissimi bambini in tutto il mondo con delle gravi malformazioni. La disabilità per Gianni non è mai stato un limite, anzi l'auto è su misura per lui, optional e accorgimenti sono all'avanguardia. È bello guidare quello, è bello perché mi dà quel senso di libertà, di autonomia e poi è un senso veramente gioioso della vita e questo è quello che a me interessa. Costanza e determinazione, dice Gianni, la patente è un obiettivo come tanti, lo ha fatto per se stesso ma anche per dire a tutti che la disabilità si può vincere, basta volerlo. Il messaggio che deve passare è che la disabilità è una condizione della vita che si può tranquillamente superare, basta averne voglia, possibilità, laddove è possibile combattere per non rimanere ai margini. Questo è il mio messaggio che mi sento di dire, la macchina è molto relativa.